Senti Enea ti sei portato al bodyguard? Hai visto? Si, è grosso, sono grosso, è grosso e cattivo? Molto cattivo. Allora sei contento di non aver vinto la gara perché l'altro anno mi dicevi di sci perché dicevi che l'altro anno mi aveva portato tanto bene. Ma in realtà non sono molto contento. No? No, volevo vincere. Però ho fatto secondo va bene. Dai secondo secondo va bene. Però c'è il miglior tempo quindi dai. No, va bene. Ricorda la pista. Ricorda la pista va bene. Mentre Tardozzi non è un rivale. No, assolutamente. Avevo la mia gara con Ciabatti dove ero dietro la prima mancia di tre centesimi. La seconda ho forzato, ho fatto un erroraccio proprio a quel punto mi ha stracciato, sono andato fuori pista, ho preso due o tre secondi proprio. Adesso se la gode per un anno, per un anno me la mena, sei stato dietro. Quindi andrai tu a fare il cross adesso. Ma siete pronti per i test? Neanche una settimana? La settimana? Via. Si parte? Sì, fra dieci giorni si parte. Però io direi che sì, assolutamente siamo pronti. Io credo che i test diranno e non diranno. bisogna fare il test pensando alla prima gara e non pensando di fare cose straordinarie al test. L'importante è avere da Enea e da Pecco i feedback giusti per avere la possibilità di migliorare ancora ulteriormente la moto per la prima gara in Qatar dove credo che entrambi hanno la possibilità delizia. Dopo il primo test a Valencia eri sia tu che Pecco, eravate entrambi contenti del primo prototipo della GP24 che da quanto mi sembra di capire è un po' più simile alla 2022 che era una moto che ti piaceva di più. Ma in realtà è diversa ancora, la 24 è ancora diversa e mi è piaciuto moltissimo il motore perché comunque l'erogazione era molto bella e andava anche un po' più forte quindi quello sicuramente non guasta però bisogna aspettare secondo me, bisogna aspettare ancora i prossimi test anche quelli in Qatar perché sicuramente anche gli avversari sono agguerriti quindi bisogna non bisogna mai darsi i pervinti, bisogna sempre stare sul pezzo. Senti io non ci voglio di parlare con te del 2023, lasciamolo da parte, però cosa ti ha insegnato? Qual è l'errore che non vuoi più fare quest'anno? Ma in primis non dare nulla per scontato perché ero partito per vincere consapevole che magari potevo fare la differenza invece alla fine tutto il contrario perché sono caduto ma anche i test comunque non è che ero andato fortissimo quindi dovrò partire più tra virgolette con i piedi per terra e cercare di fare un bel lavoro. Siamo entrati in sintonia con la squadra soprattutto nella parte finale quindi quello incide, è la prima volta che mi ritrovo nello stesso team per due anni consecutivi quindi è una cosa che mi rende molto più tranquillo. Senti ma è vero che Davide si sta allenando con te per correre nei vari box quest'anno? che lo vediamo, è vera questa? Eh questa è vera, sta facendo un box all'altro ma quello che resini sarà tanto lontano non glielo mettono vicino perché insomma Davide i team satelliti sono sicuramente un qualcosa che è un orgoglio per Ducati perché avere otto Ducati così competitive per noi è fondamentale perché aiuta anche loro quindi voglio dire sicuramente sia Enea che Pecco hanno capito quanto questa competizione interna possa essere anche di loro aiuto e che sta a loro avere in questo stimolo una ragione in più per migliorarci ancora. Poi è chiaro che a mia ragione, dal mio punto di vista il team ufficiale secondo me qualcosina in più ce l'ha non a livello tecnico perché diamo tutto a tutti è chiaro che insomma sentirsi in rosso è un peso in più ma sicuramente un qualcosa che dà una maggior spinta quindi poi te lo deve spiegare Enea però io sono ragionevolmente convinto che sedersi sulla sediolina rossa ma crea un po' di risuspanse ma è bello spinge spinge ma è anche un posto di quelli pesanti che scottano ma picc'altro devi sempre dimostrare di meritarti di essere dove sei l'anno scorso sono riuscito a dimostrarlo solo un pochettino alla fine che poi neanche tanto per convinto solo una gara però diciamo come ho detto sono molto tranquillo che si può si può far bene e pecco è molto forte quindi non sarà facile da battere però sicuramente durante i test saremo buoni alleati perché dovremmo fare la miglior moto possibile senti Bagnaia, Martin, Bezzecchi, Marmar diciamo che in Ducati ci sono dei bei nomi ci sono dei bei nomi e come ho detto l'altro giorno credo che i piloti più competitivi sono praticamente tutti in Ducati ovviamente sono altri due o tre piloti che reputo molto forti fuori da Ducati però siamo uno squadrone e questa domanda la faccio tutti e due rinnovo, ne state già iniziando a parlare e il rinnovo di contratto perché anche Nea come la maggior parte è in scadenza ma io prima voglio dimostrare di meritarmi il posto perché comunque credo che sia fondamentale proprio a livello per me stesso e quindi credo che ancora sia presto parlare di mercato per quanto mi riguarda ritengo che bisogna aspettare qualche gara perché è vero che sempre si comincia a fare qualche chiacchiera però in tutta onestà mi sembra davvero presto lasciamogli tranquilli questi ragazzi lasciamogli fare il loro mestiere loro lo sanno che ovviamente le cose verranno valutate in funzione dei risultati questo è ovvio, è parte del loro lavoro sapere che il risultato inciderà sul loro futuro per cui la tranquillità per poter far bene e dimostrare chi merita di più di essere seduto sulla sedia ufficiale è qualcosa che io vorrei parlarne fra qualche mese io, Gigi, soprattutto Gigi e Mauro che saranno le persone che condurranno queste trattative direi che vorranno aspettare un po' per valutare insieme a Claudio anche cosa deve succedere per il prossimo futuro vi faccio l'ultima domanda secondo voi le concessioni quanto cambieranno gli occhiali vipri quest'anno? ah sicuramente a noi ci hanno abbastanza devo salutare vieni a salutare vieni a salutare vieni a salutare e deve venire a salutare vedi che fortuna che ho? vedi che due piloti che ho? ci vediamo un po' vuoi dichiarare qualcosa? io non era sciare anche noi eh voglio dichiarare che manca ancora poco manca poco in inizio del stagione e vedremo e vedremo troppe parole prima non servono non servono? ma che adesso è venuto lui mica l'ho chiamato io ciao a tutti e che non riesce a star lentamente dalle telecamere non lo sai ti rispondo io lei rispondimi tu ti rispondo io le concessioni ovviamente cambieranno perché è un se no si chiamerebbero concessioni esatto è un grosso aiuto che è stato dato alle case giapponesi secondo me ha ragione io non credo che ci metteranno troppo a tornare competitivi perché bisogna comunque pensare che podi li hanno fatti anche nel 2023 per cui non credo che siano così distanti oltre al fatto che hanno piloti anche molto competitivi sia Quartararo che Rinsin Yamaha ma anche Mir è comunque un campione del mondo e spero che Luca Marini riesca a dimostrare le sue qualità però detto questo Ducati qualcosa nel cassetto ce l'ha sempre io credo e spero che i nostri piloti dimostreranno che la nostra moto è comunque sempre la più competitiva lo voglio sperare perché credo molto in Ducati e nei nostri tecnici e in questi ragazzotti qua anche in questo ragazzotto qua certo perché se è rimasto con noi c'è una ragione perché Alvafort ecco dal Terrammagnolo è più bello è più bello è bello sentirsi lo dire buon Magno buon Magno buon Magno grazie grazie